Elena dovrà salire tutta questa salita Vai Elena Elena per fortuna ancora l'ultimo pentasimo Solo per voi Ragazzi lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Se anche voi sapete andare In bicicletta Ciao a tutti ragazzi Prima che inizi questo video Come sempre ricordatevi qui di iscrivervi al canale E ricordatevi anche di attivare qui sopra la campanella Per non perdere nessun altro video Elena che ci fai oggi con questa bicicletta? Vuoi provare a sfidarmi? Vediamo chi ha vinto questa sfida Via col video Ciao a tutti ragazzi E bentornati in questo nuovo video Oggi Elena è un super video Anche perché ho una sorpresa per te Sì ma non mi ha detto niente Che sorpresa? Vediamo se riesci a indovinare di cosa si tratta Per caso vi ho fatto un regalo E ancora meglio Per caso andiamo a fare shopping Perché shopping è shopping? Si vorremmo da un indizio Si tratta di una cosa che ha due ruote Allora sarà sicuramente la mia bicicletta Elena e quindi sei pronta a rivedere la tua fantastica bicicletta? Sì ovviamente io sono contentissima Non vedo l'ora Guarda un po' qui Fino a se Che bella Hai visto? Te l'ho riparata tu Vi ho dato una guida E ora è pronta per essere utilizzata Ah che bello Da quanto tempo che non salivo sopra la mia bicicletta Adesso che abbiamo entrati una bicicletta Che ne dici di fare una bella challenge? Sì ma che tipo di challenge? Faremo uno scommetto che non lo farà in versione PC Quindi ciò significa che ogni sfidante proporrà delle sfide che riguardano esclusivamente la bicicletta E nient'altro Ah che bello Ok ci sto Allora adesso facciamo la conta così vediamo chi è il primo a decidere Da me verso te si butta Si butta 2 6 1 2 3 4 5 E 6 Quindi sarai tu a decidere cosa farò io Ok va bene Basta fare i giri con la bicicletta Hai pensato la sfida che posso fare? Andiamo fammi pensare Ah devi scendere questi 4 scalini Ma è semplice Elena non ci vuole niente Sì adesso vediamo Ma sono questi 3 gradini? No Remo questi 4 Ma no questi Ma invece proviamo ragazzi solo per voi Vai Olè Sfida completata Elena Un punto per me Adesso tocca a te Anche tu dovrai fare una cosa simile Vediamo se riesce a scendere un solo gradino con la tua bicicletta Dovrai scendere questo gradino qui Vediamo Elena Attenzione Olè Quindi Elena le prossime saranno molto ma molto più difficili In cosa mi sfida adesso? Devi scendere qui Dopo devi anche salire Oh Ecco Eh adesso devi salire Elena Come le scelte lo sali? Ma come ho fatto? Vediamo se riesce a salire una super salita Qui ci vuole parecchia forza nelle gambe Ce la puoi fare Elena dovrà salire tutta questa salita Vai Elena Io vado piano Remo Sono un po' distante L'importante è che la riesci a salire tutta Sì ce la devo fare Vai Elena Remo io sono già che avrò un altro punto Stai tranquillo E adesso mi sto stancando un po' Remo Manca ancora un po' Elena Ha quasi finito ragazzi E fine Brava Quindi da quel che ho capito Siamo due a due Adesso devi impennare tutta la bici Tanto Remo è tre tentativi Ok dai iniziamo Allora io sono pronto per impennare Va bene così? No 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 Devi fare più alto Dai Elena che adesso ce la faccio Stai a guardare un po' Ok Adesso era alto più in qui Ancora più alto Remo Elena per fortuna ancora l'ultimo tentativo Sì Olè Pronti dai questa è buona Papà che ne dici tu? Buona buona Una super impennata alla Valentino Rossi Hai superato la sfida Ok Quindi sei pronta? Sì io sono pronta Andiamo Per te ho pensato a un percorso Adesso te lo spiego Dovrai fare lo slalom tra tutti questi vasi qui Finito lo slalom dovrà fare il giro intorno a questo vaso Finito il giro dovrà percorrere lungo questa Striscia più chiara e non potrà uscire tipo qui Questa linea dovrà percorrerla tutta fino alla fine Per poi andare a sinistra salire il gradino E dovrà fare per l'ultima volta lo slalom Scenderà il gradino e dovrà salirlo E tutto questo senza mai poggiare i piedi per terra 3 2 1 Via Ecco la partita vai brava con lo slalom Lo slalom anche qui e lì esci Brava Ora devi girare qui Bravissima Tenta a seguire quella linea adesso Non puoi uscire Guardatela brava brava Continua continua Non sta uscendo dalla linea Ottimo Elena è quasi finito Dai Uno Gli ultimi due Incredibile Incredibile Bravissima Elena Beh com'è stata questa sfida? Beh non era difficilissimo come sembrava E vai ragazzi ce l'ho fatta 3 a 3 Quindi cosa mi proponi adesso? Adesso devi fare una super sgommata Proviamo questa super sgommata Dai Piaciuta questa sgommata Che dici promosso? Certo Io i miei 4 punti li ho fatti Elena tu sei a 3 ma è anche un'altra sfida Farai una gara contro papà E se arriverai prima ti beccherai quel punto E riuscirai a pareggiare con me Altrimenti vincerò io In linea di partenza siete pronti Ai posti Pronti Partenza Via Eccoli partiti Stanno arrivando Attenzione Elena in vantaggio Elena in vantaggio Ehi ragazzi come vedete si stanno dissetando Dai che deve riempire anche il vincitore della sfida Io Elena papà tu hai perso Hai perso nella gara contro Elena Ho fatto solo un tentativo Tu ti sei divertita? Sì tantissimo E anche io Ci vuole un bel giro in bicicletta Ragazzi comunque spero che questo video vi sia piaciuto E come sempre noi ci vediamo in un prossimo Un saluto da Giastremo Da Elena Da Marco E come sempre ci vediamo in un prossimo video Ciao